Signore e signori, buonasera e benvenuti a bordo di questo volo Swiss Star Alliance operato da Adria Eways, destinazione Lugano. Il nostro volo durerà circa 35 minuti. Il comandante, il signor Mosiman e tutto l'equipaggio vi augurano un piacevole volo. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti a la Suisse Star Alliance. Il comandante, il signor Mosiman e il comandante, vi vi racconto un buon espletto volo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.